Il giorno dopo l'argine del Muson dei Sassi è riparato. Siamo tornati sul posto e i 30 metri sfondati dall'acqua sono stati ripristinati con un lavoro durato quasi tutta la notte. In mattinata è stato riaperto alle auto anche il ponte che collega Rustega con Campo San Piero. Per mettere in sicurezza la zona dell'esondazione è stato schierato un modulo specializzato dei Vigili del Fuoco in pompaggio ad alta capacità, con tre pompe utilizzate anche nelle missioni internazionali. I residenti sperano che ora l'argine sia più solido. Speriamo che sia definitiva la cosa e poi stiamo a vedere la settimana prossima che è previsto un peggioramento meteo. La preoccupazione è lì parecchio, tutt'ora anche. E' venuto qui per vedere anche cosa stanno facendo? Sì la curiosità è tanta. Mi pare che abbiano fatto un buon lavoro. Speriamo, non me ne intendo ma speriamo. Speriamo che sia una cosa definitiva perché è già la terza volta che rompe l'argine qua. L'altra volta ha rotto il sugo all'oreggia due volte e questa volta qua speriamo bene perché tre volte alluvionati non è una bella cosa penso per nessuno. Ha preso paura lei venerdì notte? Beh certo che sì, io ero fuori come protezione civile. Una cosa che non è stata fatta è che bisognava avvisare la gente. Io sono passato suonando campanelli, suonando il clacson della macchina per attirare la gente e far uscire perché tutti stavano dormendo, non sapevano della situazione che c'era, l'acqua stava corriendo dappertutto. Cioè la gente era già sott'acqua quando io sono andato a svegliarli. Nella mia zona siamo stati senza correnti, comunque siamo ancora i più fortunati. Adesso hanno chiuso qui l'argine e questa è una cosa positiva? Speriamo che serva anche da imparare come comportarsi un po' tutti, tutti, tutti.